I Santi della vita ordinaria e i martiri di oggi sono il sangue vivo della Chiesa, loro mandano avanti la Sposa di Cristo con una testimonianza coerente e coraggiosa. Lo ha rimarcato Papa Francesco celebrando la Missa a Santa Marta. Partendo dalla prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, in cui Pietro, dopo la guarigione dello Storpio, annuncia la risurrezione di Gesù davanti ai capi del Sinedrio, il Pontefice ha chiarito che la coerenza fra la vita e quello che abbiamo visto e ascoltato è proprio l'inizio della testimonianza. Ma la testimonianza cristiana va oltre perché la vita cristiana è una grazia, è una grazia che il Signore ci dà con lo Spirito Santo. E la testimonianza dei nostri martiri di oggi, tanti, cacciati via della sua terra, sfolati, sgozzati, perseguitati. E hanno quel coraggio di confessare Gesù proprio fino al momento della morte. E la testimonianza di quei cristiani che vivono la sua vita sul serio. E dicono, io non posso fare questo, io non posso fare male a un altro, io non posso truffare, io non posso portare una vita a metà, io devo dare la mia testimonianza. E la testimonianza è dire quello che nella fede ha visto e udito, cioè Gesù risorto con lo Spirito Santo che ha ricevuto come donno.